Oggi ti mostro come creare una vibrazione personalizzata con iPhone senza alcuna app esterna. Come prima cosa andiamo in impostazioni, ok adesso andiamo su suoni e feedback attico, andiamo su suoneria e qui in alto clicchiamo su vibrazione e infine crea nuova vibrazione. La possiamo inventare come vogliamo, oppure prolungati, con delle piccole pause, come vi pare insomma, possiamo riprodurla per vedere com'è e se va bene clicchiamo su interrompi e salva. Se la vogliamo rifare, registra a miglia. Se il video ti è stato utile metti mi piace, se no mi segui seguimi e se vuoi un tutorial commento. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.